la kawasaki z 900 rs con il suo splendido look retro arriva anche in versione se le modifiche rispetto al modello base sono tutte per sospensioni e freni questi ultimi sono firmati brembo e sfruttano dischi da 300 mm con pinze radiali monoblocco a quattro pistoncini m4 32 i tubi sono in treccia metallica mentre la pompa a manubrio della nissin è modificata per accordarsi meglio al nuovo impianto al posto del pistoncino da 19,1 mm qui ne troviamo uno da 17,5 e ora le sospensioni la forcella a steli rovesciati gode di nuove tarature più sportive mentre al posteriore l'ammortizzatore di serie è sostituito con un hollins s 46 con corpo in alluminio ovviamente completamente regolabile e con comando remoto per regolare il precarico molla la kawasaki z 900 rs se sarà disponibile tra febbraio e marzo ad un prezzo a partire da 14.140 euro chiave in mano grazie a tutti